Verbania è in crisi. Depressione economica, fallimento del governo di destra, commissariamento. È il momento di fare scelte giuste per il nostro futuro e per quello delle generazioni che seguiranno. Il Partito Democratico sostiene Silvia Marchionini, candidata sindaco, per una politica nuova che torni a essere la più alta forma di servizio. Domenica 25 maggio, elezioni comunali città di Verbania. Scegli Partito Democratico. Grazie a tutti.